Esaltiamo i sapori di terra e di mare rendendoli unici. A Motta San Giovanni, alla Cantina di Zucco, puoi trovare davvero la bontà delle cose semplici in piatti che il nostro chef Carmelo Zucco sa rendere raffinati. Vieni a cena o a pranzo da noi per un'esperienza unica dei sensi. I prodotti tipici, pizzeria con forno a legna, menu fisso a partire da 15 euro, con soli 8 euro, pizza, bevande e antipasti caserecci di luogo. La Cantina di Zucco, anche per banchetti nuziali, feste di laurea e per ogni altra occasione. Basta prenotare 0965 71 12 29 o 338 63 72 113. www.lacantinadizucco.it, via San Basilio 29, Motta San Giovanni. Seguici sulla pagina Facebook per i menu a tema. Accoglienza e semplicità, al vostro servizio!